un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo uno scorcio della chiesetta di santa maria delle grazie qui nel percorso che ogni giorno vi vede protagonisti nel venire qui a visitare i luoghi di padre pio beh oggi vogliamo raccontarvi un episodio che è accaduto proprio in questa chiesa un episodio che ce lo racconta e hai utilizzato l'indirizzo di posta elettronica che avete a disposizione per scriverci padre dario chimenti un giovanissimo sacerdote dell'arcidiocesi di palermo padre dario ci ha raccontato la sua storia nel corso della sua vita padre pio gli ha donato coraggio speranza e consolazione da piccolo lui è cresciuto in una famiglia che definisce non praticante quindi la sua mentalità riguardo l'esistenza di dio era tipica di un agnostico ma poi a 18 anni c'è stata la conversione di dario che decide di entrare in seminario e ci racconta che al quarto anno di seminario lui fa un sogno allora lui in questo suo percorso che lo vede verso il sacerdozio c'è un animale che tenta in tutti i modi di ostacolare e distoglierlo dal suo retto cammino lui però scappa riesce a scappare riusci ad entrare in una chiesa appena entrò in questa chiesa racconta padre dario in questo suo sogno vide padre pio che stava confessando aveva una stola dorata e mentre si avvicinava a lui quindi per inginocchiarsi e nel suo cuore ancora prima di parlare voleva chiedergli il perché gli accadessero determinate cose padre pio non lo fece neanche cominciare che gli disse tu accetta e basta il sogno terminò si svegliò padre dario ci racconta che l'anno successivo lui è giunto qui in pellegrinaggio a san giovanni rotondo per la prima volta quando è entrato nella chiesetta antica di santa maria delle grazie è scoppiato a piangere perché la chiesa che aveva visto nel sogno era la stessa era questa e aveva visto qui padre pio che gli ha parlato in un certo senso ha avuto delle risposte anche se lui ci racconta è un periodo particolare nella sua vita questo la perdita del papà essere stato bloccato a milano per via del covid per oltre un mese gli hanno permesso di approfondire la spiritualità di padre pio e il suo messaggio e allo stesso tempo in questo nel cuore di questo giovane sacerdote palermitano è nata anche la voglia e la volontà di diventare figlio spirituale di padre pio ecco come fare per diventare figli spirituali di padre pio e in un certo senso anche lui ha parlato a padre pio ha chiesto come fare io voglio essere ecco anche perché così come in tanti anche noi abbiamo provato una sana invidia nei confronti di coloro che avevano la possibilità di vedere padre pio ogni ogni giorno ecco come fare anche per noi per continuare ad essere figli spirituali di padre pio beh padre dario ha avuto la risposta proprio qualche giorno fa quando un suo caro amico per il quale lui chiede anche tante preghiere gli ha regalato per la parrocchia tutta una serie di santini e tra questi c'era padre pio che baciava un bambino e lui lo ha visto come un segno ecco accettato da padre pio come suo figlio spirituale tanti sono i segni che padre pio da a tanti di noi e che ci aiutano poi a progredire nel nostro cammino nel cammino di tutti i giorni